cari amici e cari amici ben ritrovati e ben ritrovati oggi non nella mia umile dimora come sempre ma come potete vedere presso il bonelli point di milano via marghera 28 di cui avevo parlato qui davanti a me c'è il responsabile del centro cioè salvatore allora salvatore mi puoi spiegare in poche parole insomma quello che fate qui cosa avete i prodotti che vendete insomma qualcosa ciao a tutti allora io sono salvo sono il responsabile di questo spazio praticamente un anno e mezzo fa abbiamo aperto il primo bonelli point d'italia non era mai stato fatto la bonelli aveva bisogno necessità di dare un contributo anche ai propri lettori con l'apertura di questo spazio e l'abbiamo creato qui praticamente potrete trovare tutte le novità sia riguardo la ridicola che riguardo la libreria abbiamo anche una discreta sezione di arretrati siamo all'interno della mondadori di milano di via marghera e insomma le cose vanno bene vanno bene so che a volte ci sono dei appuntamenti particolari con qualche qualcuno che viene a firmare spesso di solito almeno due volte al mese abbiamo sicuramente degli incontri con gli autori e adesso fare un bel filotto di incontri per tutto il mese di giugno quindi mi auguro di vedere alcuni di voi io farò di tutto per incentivare la pubblicità di questo bonelli point io vengo da poco comunque come sanno tutti quelli che mi seguono sono appassionato di tex e quindi bonelli point per me come entrare in un negozio di giocattoli per un bambino qui abbiamo anche un altro rappresentante molto molto gentile e cordiale mi ha aiutato a scegliere alcuni volume alcuni altri come ti chiami tu sono mattia mattia ti trovo tu perché io sono ponegliano ti trovo in un negozio di giocattoli perché per me si guarda una cosa io ho 62 anni io ragazzi voi siete giovani ecco però sono rimasto proprio un bambino quando vedo mamma mia guarda non sto dilapidando capitale comunque io vi ringrazio sia salvatore che mattia per la vostra gentilezza saluto tanti cari saluti a tutti voi che mi seguite e ci vediamo ovviamente sul prossimo video in cui vi mostrerò qualche acquisto fatto proprio questo il bonelli point grazie arrivederci